La mente e il linguaggio Non esistere alcuna influenza di tipo causale A Taranto, una città del sud Italia, padre e figlio ci sono riusciti Sono Dino e Tiziano Ricci, pizzaioli da tre generazioni All'inizio sembrava praticamente impossibile, anzi a dire il vero mio padre non ci credeva affatto Tiziano questa cosa non si può fare proprio Ci sono voluti anni di prove, esperimenti e litigi E alla fine ce l'abbiamo fatta Pizzaburger Ricci Un hamburger di carne di altissima qualità Racchiuso da un impasto che vanta una tradizione di tre generazioni Tutto quello che hai sempre desiderato In un solo piatto Amici dello sportello del cittadino ci troviamo a Taranto in via Gobetti Questa via che appunto è nelle adiacenze della concattedrale Vedete questo tratto di strada che parte praticamente da via Blandamura e poi termina così Oggi arriva fino alla Pinettina di via Ancona Più volte abbiamo segnalato il manto stradale che giace in condizioni penose Per la verità qualcosina è migliorata perché ci si è degnati L'amministrazione comunale ha rappezzato, ha tappato come si suol dire le varie buche E voi ve ne rendete chiaramente conto perché ci sono i segni appunto del catrame più fresco, più scuro Ma qui non è questione di tappare la buca perché poi con un po' di pioggia, con l'usura Tempo qualche mese e le buche si riapriranno Come le uova che poi si schiudono Qui anche le buche si schiudono Ma l'assurdo è vedere un manto stradale Che è già uno spreco di termine, di terminologia chiamarlo manto stradale Perché qui è un, non lo so come definirlo È una serie di, è un lusso definirlo manto stradale Perché si tratta di un saliscendi, di rappezzi su rappezzi, toppe su toppe Vedete, un abito di arlecchino E diventa anche pericoloso ovviamente per chi attraversa, per chi cammina a piedi Penso soprattutto agli anziani Ma ripeto, qui paradossalmente intervenire e tappare le buche più volte, ripetutamente Costa molto ma molto di più rispetto a rifare completamente, ex nuovo, il manto stradale Il tappetino, fare appunto un nuovo tappeto, tappetino di catrame Ed evitare questo saliscendi Vedete, mentre si cammina Sembra quasi di avere, di avvertire Come dire, il mal di mare Lo vedete? Vedete qui Questa situazione E allora dico all'amministrazione comunale Cerchiamo di rifare questo pezzo di strada Non costa molto perché non parliamo di chissà quale lunghezza Non ci troviamo sulla Gran Via, la cosiddetta Gran Via di Madrid Che si protrae per chilometri e chilometri Si tratta di dare un minimo di decenza e di vivibilità Far sì che le macchine non debbano sprofondare ancora una volta nelle buche Perché poi si riapriranno E soprattutto evitare che qualcuno, purtroppo camminando Qualche anziano in questa situazione di dislivello Possa cadere, inciampare e rompersi un femore Poi si chiedono i danni al comune E il comune deve pagare Giustamente Ma il povero disgraziato Si trova una gamba rotta, un femore rotto E per un anziano, purtroppo Un femore rotto, il più delle volte È l'anticamera della morte Ma spostiamoci perché voglio farvi vedere un'altra cosa Intanto, proseguendo Vedete, mi sto avviando verso un palo della luce Ma vedete, proprio qui Voglio dimostrare, come dire, minuto per minuto Pezzo per pezzo Step by step Toppa dopo toppa Vedete, abbiamo fatto Arlecchino Toppa, 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 toppa Ma non si faceva prima a rifare completamente Lo ripeto, il manto stradale Ed ecco che ci avviciniamo Ad un'altra scelta sbagliatissima Qui bisognerebbe vedere anche le responsabilità dell'Enel Perché qui è stato messo, vedete Uno dei pali della pubblica illuminazione Ma questo palo è stato messo Posizionato in una posizione assai disgraziata Perché è proprio in prossimità della curva Vedete Le macchine, le auto che girano E si imbattono In questo palo Ora non vorrei che Qualche macchina Sciaguratamente O in uno scontro O in un momento di distrazione Andasse proprio a sbattere Contro questo palo E poi potrebbero Potrebbero davvero succedere disgrazie Ma io dico scusatemi Ma perdonatemi Proprio qui dovevate mettere questo palo? Non c'era una posizione migliore? Non lo si poteva mettere un po' più all'interno? E questo palo maledetto Non potrebbe ora essere spostato? Beh io penso che la logica Dica questo E che amministrazione comunale ed Enel O altro ente preposto Si interfaccino E spostino di qualche metro La collocazione del palo Frattanto Vedete Buche, toppe, toppe, buche Vedete anche qui Il manto stradale sta cedendo Altre buche Che si stanno insinuando Poi verranno tappate di nuovo Vabbè Per ora l'emergenza Come dire È stata tamponata È stata tappata Passatemi questa espressione Però Viva Dio Questo è un Così Un qualcosa proprio di Di emergenziale Però Programmare è un'altra cosa E allora Sindaco Assessore ai lavori pubblici Vice sindaco Noi vi segnaliamo questa strada Per cortesia Diamo un asfalto decente Risparmiereste Piuttosto che venire tante volte A tappare le buche E magari a ricevere Citazioni in giudizio Per i danni procurati Alle auto E ai pedoni Tanto vale Rifare la strada Tanto prima o poi La dovete fare La dovete rifare Spero Prima E non poi Che accadano Alte disgrazie E soprattutto Occhio A questo palo A questo palo